Teate e servizi ora è scontro tra il comune di Chieti e il curatore fallimentare Guglielmo Flacco che torna a incalzare l'amministrazione comunale. Il comune si prepara a rispondere, anzi già lo ha fatto, grazie alle parole del sindaco Diego Ferrara. Teate e servizi e la società partecipata dall'amministrazione comunale dichiarata fallita a febbraio continuano a far discutere a generale polemiche. Flacco è tornato a sollecitare l'amministrazione del sindaco Ferrara con una lettera protocollata quattro giorni fa nella quale lamenta che il comune non è ancora riuscito a sanare il contenzioso con la GCM, ossia l'autorità garante della concorrenza del mercato, così che l'esercizio provvisorio non può essere oggetto neppure di valutazione da parte del curatore fallimentare. Di tutt'altro avviso il comune secondo cui la richiesta dell'esercizio provvisorio è scelta esclusiva del curatore fallimentare, il sindaco Diego Ferrara. Per quanto riguarda l'esercizio provvisorio e l'eventuale richiesta da parte del curatore, ci è stata avanzata come ipotesi dall'avvocato Flacco già dall'inizio ed è, nel caso avvenisse, una proposta ottimale sia per il comune che per i lavoratori stessi di teatro e servizi. Per il comune perché si velocizzerebbero i tempi per l'emissione dei ruoli e per la riscursione. Per i lavoratori dell'ex teatro e servizi perché potrebbero essere riutilizzati nel loro lavoro. Ora è inutile che sottolinei perché credo che tutti i cittadini sappiano che nel momento in cui una società privata o pubblica che sia fallisce, le sorti di questa società post fallimento dipendono esclusivamente dal curatore. Ferrara prosegue affermando che il comune di Chieti ha fatto e sta facendo tutto il possibile e che alcune polemiche sono sterili e non portano a nulla. Potrei snocciolare date, provvedimenti, delibere, interlocuzioni che dal 22 di febbraio scorso il comune ha messo in atto. Voglio solo ricordare che già dopo 20 giorni avevamo preparato una prima bozza di contratto ponte o provvisorio che sarebbe stato necessario al curatore per richiedere l'esercizio provvisorio. Ferrara ha chiesto un incontro con il curatore fallimentare per cercare di trovare una soluzione comune. Credo che chi mi conosce sa quando faccia continuamente e ogni giorno per mantenere rapporti dialettici istituzionali con tutti coloro e le istituzioni con cui interloquisco, però dall'altra non posso, ripeto, non posso accettare che si rigetti sul comune la responsabilità di non rendere possibile la richiesta dell'esercizio provvisorio ma soprattutto quello che mi fa più male è che si adombri la responsabilità del comune della sorte dei lavoratori di teatro e servizi.